Ok, what's in my bag della mia borsa da spiaggia? È di Victoria's Secret e io adoro che ha la cerniera, così posso metterci tutte le cose e chiuderla. All'interno, come prima cosa, ovviamente ho tutto il beauty delle protezioni solari. Ho portato la 30 e la 50 di Veralab, questo spray che dovrebbe aumentare la bronzatura, e un'altra protezione 50, questo è un olio di Sol de Janeiro. La protezione per il viso è di hondo, due lip balm con all'interno la protezione perché bisogna proteggere anche le labbra, questo stick 50 che per esempio lo utilizzo per proteggere la riga dei capelli, e anche una protezione spray per il viso. In più ho anche una spazzola, questa qui è di Darling piccolina portatile, così quando voglio mi pettino anche i capelli. E questo l'abbiamo fatto. Ovviamente anche il telefono, questa cover è del marchio Burga. In questo beauty di Too Faced in realtà c'è il mio Kindle. Ormai è da un po' che utilizzo il Kindle e mi trovo benissimo, soprattutto in vacanza perché con i libri magari si possono sporcare oppure bagnare con l'acqua. Nell'altro beauty, che è di Rare Beauty, metto tutte le cose necessarie, per esempio le chicche, il mio porta Invisalign, fazzolettini di carta, un profumo perché comunque è meglio sempre profumarsi, e anche le airpods, igienizzante mani col segno del leone, e anche uno specchietto di Fenty Beauty, anche questo sempre utile. Poi in vacanza non possono mancare settimana enigmistica e sudoku. Una novità di quest'anno, ma dovevo pensarci prima, è un ventilatore portatile. E questo quando fa caldissimo è molto meglio del ventaglio. Una banana, ovviamente, per fare merenda o uno snack quando ho fame. Un cappello per quando voglio leggere così mi proteggo un po' dalla luce del sole. E anche gli occhiali da sole, ogni giorno cambio modello, ho questi, ho questi e anche un altro paio. Direi che questo era tutto. Devo solo trovare dove ho messo anche il mollettone a forma di fiore, perché in questi giorni l'ho usato e non so dove l'ho messo. Fatemi sapere se voi mettete altre cose nella vostra borsa da spiaggia.